cooperativa agricola volpago da noi trovi la carne fresca di prima qualità genuina e salutare per il tuo benessere ci trovi a volpago del montello pieve del grava e tre baseleghe bentrovati al meteo prevale ancora l'alta pressione sull'italia sul nostro territorio la settimana inizia in un contesto in genere buono vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica sul veneto avremo un ampio soleggiamento tuttavia in alcuni momenti della giornata il cielo potrebbe localmente coprirsi e sui rilievi poi non si escludono anche degli occasionali piovaschi altrove il tempo si manterrà buono temperature in lieve calo minime tra 7 e 14 gradi valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 22 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui sarà soleggiato ma nelle ore pomeridiane avremo qualche occasionale acquazzone sui monti temperature minime tra 9 e 11 gradi massime sui 20 22 gradi infine uno sguardo al trentino alto adige anche qui tanto sole avremo però qualche addensamento specie sui settori più meridionali in genere senza piogge temperature minime intorno ai 6 10 gradi massime infine sui 22 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci al prossimo aggiornamento cooperativa agricola volpago da noi trovi la carne fresca di prima qualità genuina e salutare per il tuo benessere ci trovi a volpago del montello pieve del grava e tre baseleghe grazie a tutti grazie a tutti